Ieri abbiamo chiuso la nostra trasmissione con questi tre verbi quindi riconoscere, interpretare e scegliere mi veniva da dire sognare ma insomma il sogno fa parte anche del nostro discernimento anzi bisogna saper scegliere per sognare bene e realizzare poi questi sogni se il sogno è il sogno di Dio per me quindi questi tre verbi di cui Papa Francesco ci ha fatto dono nella Evangelium Gaudium riconoscere, che cosa vuol dire riconoscere? vi ho anticipato che ci faremo aiutare dal documento di preparazione al sinodo dei giovani sentite i giovani che cosa dicono? circa questo verbo, qui sono i giovani che parla e non parla il Papa dice il riconoscimento riguarda innanzitutto gli effetti che gli avvenimenti della mia vita le persone che incontro, le parole che ascolto o che leggo producono sulla mia interiorità una varietà, e qui si riprende Amoris Laetitia di desideri, di sentimenti, di emozioni di segno molto diverso tristezza, oscurità, pienezza, paura, gioia, pace, senso di vuoto tenerezza, rabbia, speranza e tiepidezza vedete come noi molte volte ci facciamo scivolare gli avvenimenti della vita e Dio parla proprio attraverso questi avvenimenti della vita che a volte ci potrebbero sembrare insignificanti come abbiamo ascoltato i giovani ci invitano a saper riconoscere tutto ciò che ci passa nella nostra vita e gli effetti che questi avvenimenti ci producono nella nostra vita nella mia vita, le persone che incontro la musica che ascolto i viaggi che faccio le letture che faccio cioè tutto ciò che poi ha un riflesso nella mia interiorità perché è vero, vedete, molte volte noi viviamo tanti incontri ma non tutti poi segnano la mia interiorità leggiamo tanti libri ma non tutti restano o lasciano un seme nel mio cuore quindi la capacità di riconoscere ed è intendersi come la capacità di saper vedere quello che di esterno a me poi mi colpisce dentro ricordo il mio padre spirituale mi disse una volta che per capire e per fare un buon discernimento per qualsiasi stato di vita tu devi ascoltare le vibrazioni del cuore ecco come occorre riconoscere i propri desideri interiori scusate, quando vi siete innamorati quella donna o quell'uomo che avete incontrato quando l'avete incontrato quando vi siete incontrati avete avuto dentro queste vibrazioni quando qualcuno o qualcosa vi vibra nel cuore attenzione bisogna saper riconoscere per saper discernere io vi aspetto domani Padre Pio TV Dritto al Cuore ciao a tutti grazie a tutti